La procura di Genova ha chiesto l'archiviazione per i tre magistrati di Siena, titolari del fascicolo sulla morte di David Rossi, l'ex capo comunicazione del Monte dei Paschi, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni, sede della banca senese. I tre indagati per falso aggravato sono Nicola Marini, Aldo Natalini e Antonino Anastasi ed erano stati interrogati nei mesi scorsi dai colleghi genovesi. A loro veniva contestata la mancata verbalizzazione della perquisizione con annessa ispezione informatica e sequestro della stanza usata da Rossi. Per la magistratura ligure i tre avrebbero fatto una perquisizione, manipolarono la scena ma non ci fu alcun intento di occultare indizi o manomettere le indagini. Nessuno commette un falso, si legge nella richiesta di archiviazione per il sol gusto di commettere un reato. In particolare, i tre allora PM senesi nel verbale del 7 marzo omettevano di attestare che nelle ore precedenti, in particolare dalle 21.30 fino a circa mezzanotte del giorno precedente, avevano già fatto ingresso nella predetta stanza prima che la stessa venisse fotoripresa dal personale della polizia scientifica. In quell'occasione avrebbero manipolato e spostato oggetti senza redigere alcun verbale delle operazioni compiute e senza dare atto del personale di polizia giudiziaria che insieme a loro avevano proceduto a questo sopralluogo. L'inchiesta era nata anche dopo la trasmissione degli atti da parte della Commissione parlamentare. Secondo i PM genovesi, però, tutto questo non rappresenterebbe un reato. Nella richiesta di archiviazione, i PM genovesi dedicano un paragrafo anche alla figura dell'allora comandante dei carabinieri Pasquale Aglieco, indagato per falsa testimonianza per aver sostenuto che il PM Enastasi rispose alla telefonata di Daniela Santanchè sul cellulare di Rossi. Aglieco si è trasferito ad Ammamet e quindi non è stata ad oggi ancora possibile notificargli l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio. La procura di Genova ha trasmesso gli atti a quella di Siena per la parte relativa alla sparizione di alcune immagini da una pendrive in cui si vedrebbero due dipendenti passare da un'altra uscita del Monte dei Paschi appena dopo la caduta di Rossi dalla finestra del suo ufficio. Le indagini non portarono a sospettare di loro, ma i PM genovesi hanno aperto un fascicolo e lo hanno trasmesso ai colleghi senesi per chiarire chi e perché cancellò quel file.